E adesso esce nelle nostre sale cinematografiche il 5 novembre, parliamo di Spectre, l'ultimo 007 e questa sera sono eccezionalmente i nostri ospiti i protagonisti Monica Bellucci e Daniel Craig Buonasera, benvenuti qui in studio al TG1 Vediamo adesso una clip del nostro film e del film di 007 e poi torniamo in studio, in diretta Per Craig, eccoci qui, contro chi combatte questa volta 007? Well, we have a wonderful villain in Christophe Wals Christophe Wals, che è un meraviglioso personaggio, un cattivo, che rappresenta un'organizzazione che ovviamente cerca di conquistare il mondo Bene, Monica, per la prima volta una Bond Girl alla sua giovinezza, 51 anni, ecco, che esperienza è stata? Io volevo veramente lavorare con Sam Mendes, che è un regista che rispetto tantissimo avere questi momenti di recitazione con Daniel, che è un gentleman come James Bond, ma anche fuori dal set e questa donna, sì, è una donna matura per la prima volta in James Bond e Sam Mendes voleva appunto sentire questa sua tristezza, questa sua malinconia è una donna che anche se non ha più la bellezza della gioventù, ha comunque la sua femminilità che in qualche modo le salva la vita Mr Craig, alcune scene sono state girate a Roma, ecco, che rapporto ha avuto con la città? Sono venuto a Roma molte volte durante gli anni e lascio sempre un po' di cuore qui, in questa città non sapevo che Bond non era mai stato a Roma quindi per me, diciamo, è stata un'enorme possibilità di far vedere Roma e quanto sia bella Roma ci ha colto a braccia aperte i cittadini romani hanno avuto una pazienza incredibile abbiamo girato una scena molto grande, molto importante qui nel mezzo del film penso che abbiamo tenuto sveglie un po' di persone di notte però davvero gliele siamo molto grati sicuramente qualcuno sì Monica, cosa rappresenta per lei questo 007? arrivare a recitare in 007 è una cosa importante per la carriera di un'attrice ma è una grande tradizione Bond quindi la femminilità in Bond è rappresentata un po' la donna un po' come un'icona e quindi ecco, entrare in questa famiglia è stato molto bello per me e ho queste belle scene con Daniel dove in qualche modo ci battiamo e ci amiamo un po' come una danza, come un tango ieri c'è stata la prima mondiale a Londra erano presenti il principe William, la duchessa di Cambridge ecco, loro dalle immagini erano visibilmente emozionati ecco, lo siete stati anche voi, com'è andata? è andata incredibilmente bene è stata la possibilità per tutti noi di stare insieme e di festeggiare perché noi abbiamo lavorato tanto e per tanto tempo questo ruolo, diciamo così, è stata la ciliegina sulla torta Monica, anche per lei ovviamente è stato emozionante quando ho visto anche il pubblico così che tutti aspettavano, mi sono resa conto che traduzione è importante per l'Inghilterra ma James Bond rappresenta qualcosa di unico non solo lì è comunque una tradizione mondiale quindi tutti aspettano Bond e posso capire benissimo perché Daniel Craig è un Bond così moderno e insieme a Sam Mendes hanno creato questo Bond che ha un mal di vivere, un istinto di morte che lo rende in qualche modo così unico e così anche umano perché non è solo razionale e in controllo ma anche delle emozioni, dei feeling che lo rendono in qualche modo così anche delicato a volte bene, c'è una complicità meravigliosa tra di voi non vediamo l'ora di vedere questo film grazie per essere stati questa sera con noi grazie a tutti